Oggi nell'auditorium dell'Agenzia Regionale per la Promozione Culturale di Avizzano è stato presentato il romanzo Polvere di Lago di Francesco Proia, giovane scrittore nato a Avizzano nel 1979. Sono intervenuti il professor Giuseppe Grossi, direttore tecnico dell'Archeoclub Marsica, Attilio Francesco Santellocco, presidente dell'Associazione Socioculturale Tauta Marsa e l'economista Marco Boleo. Sul significato e finalità del libro l'autore Francesco Proia è stato intervistato da Paolo Guadagni. Sentiamo. Una presentazione in grande stile per un libro, il primo, di Francesco Proia, Polvere di Lago. Di cosa si parla in questo libro? Allora, il libro innanzitutto tengo a specificare che si tratta di un romanzo, per cui è un romanzo ambientato sulla nostra storia, dove chiaramente la storia è quella vera, però la trama che ci ho messo in mezzo è inventata ovviamente da me. Parla di tutti i misteri e le curiosità storiche che sono cresciute intorno al lago Fucino e intorno a quello si sviluppa una storia che porta indietro nel tempo fino ad arrivare a 2000 anni fa. Che cosa ha rappresentato questa prima esperienza? È un'esperienza bellissima e interessante soprattutto. È un'esperienza con il quale sono riuscito a mettere nero su bianco tutto quello che negli anni ho raccolto sia dal punto di vista cartaceo sia dal punto di vista delle tradizioni orali, quindi le storie raccontate. È un esperimento che spero porti la curiosità all'interno della persona che lo legge. Io non ho avuto modo ancora di leggere perché la presentazione c'è stata proprio oggi, però mi sembra di aver capito che fai un po' di riferimento a tanti altri lavori che sono stati presentati in precedenza. In cosa differenzia il tuo? Come ho detto prima, l'unica differenza è che si tratta di un romanzo. Trattati storici ne sono stati scritti tantissimi, sul prosciugamento del Fucino, libri su Alba Fucens, sulla storia dei Marzi. L'unica differenza che rende questo libro leggermente diverso è che il libro che ho scritto io è un romanzo, per cui dovrebbe interessare e riuscire a coinvolgere anche le persone comuni. La trama principale? La trama è un... Senti a scoprire nulla? Ovviamente. A seguito di un trovamento particolare, un ragazzo che studia architettura, lui è originario di Roma, verrà a scoprire mano a mano, attraverso un viaggio a ritroso, tutte le storie che stavano intorno al lago Fucino. Un primo lavoro? Solo questo o già stai pensando a qualche altra cosa? No, al momento no. Ci sono voluti due anni e mezzo di travaglio per partorire questo libro, tra ricerche storiche, stesura, correzione, bozze, trovare le fotografie, abbiamo messo diverse fotografie d'autore all'interno, quindi per il momento vediamo di lanciare bene questo, poi chissà. Non mettiamo l'inviare alla dire provvidenza? Quello mai. Grazie. Grazie.